come la cosa c'è Salende? io ho detto Salende Salende io ho detto? non ho detto Salende io ho detto tutto ho detto ora ho detto io ho detto nel secchio perché è una pentola? e quando ho detto il secchio fuori nell'arrabbi perché c'è il prodotto ho detto ho detto ho un brand ha detto sono chi ha detto ho detto io ho detto e questo il giallo è giusto vediamo, non dov'è capire ma la c'è il mio voi pulire non dov'è capire non dov'è capire quindi non dov'è capire non ho fatto ok, parli guarda un po' le cose guarda un po' le cose guarda un video che la chiama Alla prossima! Sì, non è vero. Tra un'altra di cui noi vengono un'antaifa, bambini non c'è una città, perché vorrei vengono un'antaifa. Ok ok Sant'è, 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 Sant'è Ok Ok, qui è un'antica? Niente Ora vengono un'antaifa Questa è una città Questa è un'antica Questa è una città Questa è un'antica Ehi man, con noi con i saide e con i shikia. Ok, basta, basta. Ok, basta. Here we go. Ehi man, con noi con i shikia. 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 Ehi man, con i shikia. Ehi man, con noi 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 con i shikia. i appassionati manzi amici anzi for you any dacca fuanza gabisa minato talk a you wait na tattoo ah scale scale visori ira siwinio neshi live ira siwi Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Sì, vieni a venire a venire a venire. ma anche inta wapomotisha inta pato motisha e quelli wame nyamaza wame nyamaza kimia nimejaribiku wapomoyo rajoni kakazetu ok ok ngodi nelekezi mechi i think kuna 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 ya kenya why don't speak arabic sorry i think he's pointing pointing at me kuna ya kenya kuna ya kenya singe singe ah kagonga bawe amna hau kufunga lakini yiko close sana close sana kufunga naona very close kufunga tenaona kipa kaumia godwin kutoka kahama tanzone oe ok ok yani yao kenya olivia tulia vile kuna taraha udawa kufunga ok kufunga kufunga anani u hide . 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 Sì, sì. Cosa c'era un'arruzione? Un'arruzione? Un'arruzione, i suoi due? Un'arruzione che si vive in un'arruzione? Un'arruzione che si vive in un'arruzione è che quando ci si vede, ci si vede da acquistare e anche una persona che si vede e hava di affinare un'arruzione di un'arruzione e un'arruzione! E un'arruzione! Un'arruzione! sti vri, n'yema pala fuji, sei un minza, baba ok, appa, appa con un free kick appa, inaweza qua bau, la filip ok, come si, come si come si, come si edhi, edhi, non mi ha detto ok, ok ok vedila �fter non è io poi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no come on ma chaka mbao, nende basa mafini, wanauza mufindi mufindi, nende mufindi, utapata na mabanzi pia mufindi, unagawa mabanzi bure yani ukiingie kabise indani kati kati wase ma batuatoeni mabanzi bure zamani lakini, squizi naona mabanzi mabanzi garamba squizi ngape ngape ni moja bila tanzania tanzania inoungoza, ok, basa ngoje nifanya kidongo sports reporting nijifanya mimi ni akamawa watuwa DSTV nia? DSTV? nkoote kunye kutangaza? ee, supersport ngoje basa nisi onaibu, ok apa najaribu uwelekeza, ok apa, yaani wamesimama, awafanya kitu pass siju ya wanawezaji kuendele kuongea moja, mpaka, mwisho yani apa ata sioni mpira uko api, mpira umepotela, ok apa basa kipa kapika mpira imenda out mwisho siju nendele kuongea nini sasa ok apa kuna throne, throne ya kenya, ok kenya inendele mbele, inendele mbele yaani wamepata mpira wanatoa, wanayapa yaa, kuna shambulizi kidogo wa kenya, kenya na to cross, cross high endi, cross high ee, to nje nini, gani mimo ni dungu mimo limo ampira kuna ku to nje, unona ah ok, apa tanzania kidogo, kidogo ane, 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 tituma sana ku pigambele kidogo position kuna shambulizi kidogo, kuna shambulizi kidogo, kanali kuna shambulizi kidogo, kanali mani wow wow tu nata tu nata wow tu nata tu nata wow ok che vuoi che vuoi tu nata tu nata tu nata ıyoruz oh tu nata wow grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.